proviamo un po' la demo di sto strider vado raro sto giochino davvero giovane fura miglia, troppo bella mi stanno comunque sbicelando vado al dritto come un cretino cos'è questo affare? guarda lì, guarda lì che roba asserto è scivolata l basso, molla ok ok cina che fa? se sto fermo no vabbè vale 7-8 euro sto giochino no 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 cazzo sparano però va del bordello di là eh, mi scemo ma guarda lì forza, su ah, c'è la lampia io io si mi devo butta no, mi hanno sbriciolato porta della città mi dè che mi fa riamminciare dall'inizio eh vai adesso mi dico così su checkpoint perché è l'ultima partita come si fa la sedice? staccati eh va 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 no, mi è riascato maledetto, ma spara per male... malefito ma la sono un po' scemo eh va bene, si va a su eh no bravo ma ritornano futile eh mh un giocchino che non è freddo capo io no, no, no ma ho sbagliato il piccolo ahhh guarda lì la via della uscita ma perchè muoio così? no, che palle però eh no, che palle però eh no, non mi ha vestiti la spalle sta parlano piano, va... bravo io io eh che cazzo va la prima o è lo stesso punto di prima no? prima sono morto visto? si è fatta, dopo tre volte x? cos'era? c'è il boss bravo c'è il boss c'è il boss c'è il boss potenza muscolare lo strider io non ce l'ho ancora a fare il giro c'è un boss Vabbè, proviamo ad andare su. 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 Vabbè. Vabbè, giochetto è un giochetto. Peccato, perché Strider era un personaggio di poco fascinoso. Cercatevi di immaginare le strade degli anni 80. Una roba meravigliosa. Un sogno. Sì, come si esce da sta gabbia. Tieni, fermuto vabbè. Sì, come si esce da. 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 Come si esce da. porta ma picciate e simone di rossi periferia di cazzo ma rimesso che palle palle non so se dove li fa queste due stronzate bene vudo bordis ma 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 Sì, sì. molto reso ma già scoppiato ci ha le piale nel cervello non 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 ma ne ne prenderò 70 non 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 Grazie a tutti.